Per me cantare per strada è il momento di grazia che cerco e che spero di dare alle persone. Sono Eleonora Lorenzato, ho 25 anni, vivo a Milano da 6 anni e nella vita faccio l'artista di strada. La passione per la musica è un po' di famiglia. I ricordi più belli che ho con mio padre siamo io e lui a cantare le canzoni di Celentano, dei Nomadi, di Fabrizio De Andrè. È una passione che porto avanti per me ma viene da lui e per lui anche. Mio padre non è qui ma è come se fosse qui. Io l'ho perso 5 anni fa quando avevo 20 anni. Però è come se l'avessi perso quando ne avevo 14, quando ci dissero insomma che aveva solo pochi anni di vita. E questi pochi anni di vita sono stati comunque completamente senza di lui perché lui era senza ricordi, senza riconoscerci. E non è stato facile. Quando canto per strada lo sento, mi piacerebbe anche vederlo, però lo sento e credo che lo sentano anche le persone. Christophe è il mio attuale ragazzo, condividiamo l'amore, la passione e lo stesso mestiere. Mi dispiace molto che Christophe non l'abbia conosciuto, papà, però forse è stato lui a mandarmelo. Un po' un lieto fine che mi aspettavo e che mi meritavo forse anche.